Un bel saluto in dialetto a tutta questa bella gente, che è molto il pugione di me, ma io ho 70 anni a te, ma io mi riporto tutti i miei, salve, perché non si possono fare i nomi, lo sapete? Ok, un ringraziamento, un altro applauso, saluto mille, grazie, grazie mille. Grazie mille.